Quindi fammi capire, tu sei venuto in Italia, hai assaggiato la nostra cucina e poi hai pensato di aprire un ristorante italiano qui, eh? Sì. E senti un po', come lo cucini questo spaghettino qui? Ah, facili. Prendi acqua, metti pasta, accendi fuoco, prendi minuta. Invece la facevo bollire, penso che è stronzo. Dopo volete altro? Sì, sì, un cacciavite e una scala. Cosa? Ma cosa fa? Cosa fa? Tranquillo, 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 tranquillo. Ma cosa fa? Non si scrive l'Italia in vano, vichingo, sei un vichingo. Ma cosa fa? No, scherzo, no, no.